Oh, parts, oggetti che non dovrebbero esistere. In un'antica tomba nel Sud America, fu trovato un gioiello in oro, molto originale. Il reperto, risalente a 1800 anni fa, venne frettolosamente classificato come, ornamento religioso. La sua forma è così simile, ai più veloci aerei contemporanei, che i tecnici dell'Aeronautical Institute di New York, lo esaminarono approfonditamente. Si riconoscono le alia delta, la cabina, il parabrezza, la coda. Attualmente il prezioso aeroplanino, si trova alla State Bank di Bogotà, Colombia. Non è l'unico esemplare. Nelle tombe precolombiane, sono stati trovati, molti altri oggetti simili.